Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Anche in queste assolate giornate d'agosto non si fermano le iniziative di Plastic Free. Ultima iniziativa la pulizia di un tratto lunghissimo dell'argine di Taglio di Po, dal centro la frazione di Marzorno destro. Al telefono Riccardo Mancin, responsabile per il delta di Plastic Free, che con Katia Mocchetti, Erminia Polesenani, Carmen Fiore e Laura Felletti di Ferrara in supporto, ha fatto questa grandissima pulizia dell'argine. Buongiorno Riccardo, come siete riusciti a fare questa ultima impresa? Ciao Leandro, ieri quattro membri del gruppo Plastic Free di Taglio di Po, con anche il supporto di una referente di Ferrara, hanno pulito da Taglio di Po a Mazzorno tutta la zona arginale, facendo una sorta di pellegrinaggio, una mega passeggiata di dieci chilometri, recuperando tutto quello che c'era da recuperare. Il bottino è là, in quel di Mazzorno, perché poi avevamo visto altri sacchi buttati giù dalla sponda arginale, quindi abbiamo recuperato tutto, totale 50 sacchi, più qualche ingombrante. Il monte è tutto, il monte rifiuti, il bottino è tutto lì, in parte alla strada, in attesa di essere ovviamente recuperato da ecoambiente. Pazzesco comunque quello che siamo riusciti a fare in una mattinata, perché siamo partiti alle otto e mezza e abbiamo finito, che era luna, e poi siamo tornati nel pomeriggio per fare altre due ore, per recuperare tutti i sacchi sversati, è una cosa allucinante quello che abbiamo visto e abbiamo trovato, quindi tantissimi tantissimi rifiuti. Grazie Riccardo, vi ringrazio da cittadino per quello che fate con Plastic Free, sperando che anche questo filmato possa aiutare a sviluppare in tutti gli abitanti del Delta uno spirito ecosostenibile, per il rispetto di questo fragilissimo nostro Delta.